Com'è andata la partita oggi? Bene. Cosa avete fatto il risultato? 7 a 2. Come ti sei trovato in questo campo, bene, sei abituato, si? Gli avversari? Quindi scusi ha preso due pera lei? Eh? Ha preso due pera oggi? No, no, hai fatto delle ottime parate. Sì. Com'erano gli avversari? Forti? No, non molto forti. No, di dire erano fortissimi però... E adesso, se stai un po' fermo, mi auguro che mi viene il mal di mare, e in classifica come siete adesso? Secondi. Secondi? La garibaldina cosa ha fatto? Non lo so. Ma sei sicuro che sei secondo? Sì. Diciamo... Vuoi dire qualcosa al tuo pubblico? No. Un bel forza Inter no, eh? No. Hmmmmh. Grazie a tutti.